L'altro giorno ho letto La filosofia di Topolino, di Giulio Giorello. È stata una lettura davvero particolare, interessante. Topolino ha attraversato tutto il Novecento e si può dire che è stato un vero e proprio filosofo di quel periodo. Ha avuto una sua evoluzione, prima avventuroso e scapestrato, poi rispettoso delle regole e aiutante del commissario Basettoni, e sinceramente anche io, come l'autore, lo preferisco come era nei tempi d'oro, quando appunto viveva mille avventure, quando era spericolato, quando si gettava nei guai e ne combinava di tutti i colori con Pippo e anche con Paperino. Soprattutto, diciamo, quelli che hanno, quell'autore che ha veramente donato una grande caratterizzazione del personaggio, che lo ha reso direi epico, è stato sicuramente Floyd Gottfredson. E sceneggiò, appunto, le storie del Topolino, soprattutto nel periodo che va dai, dal decennio, dal 1930 fino al 1940. E non vedo l'ora di poter collezionare tutte le avventure e le storie che appunto lui ha scritto per Topolino. Quindi in questo libro Giorello non fa che scegliere alcune di queste storie epiche, tip bellissime, e le analizza appunto dal punto di vista filosofico, ma direi anche antropologico e sociologico. Vengono quindi analizzate soprattutto le storie che vanno dagli anni 30 agli anni 50. Perché lo consiglio? Lo consiglio perché, secondo me, è un esperimento ben riuscito questa operazione che ha fatto il filosofo Giorello. E poi, se voi siete appassionati di Topolino, non potete fare a meno di leggere questo libro. Comunque io l'ho trovato in biblioteca, quindi potete anche trovarlo, sicuramente lo troverete nelle vostre biblioteche. Se poi lo volete proprio acquistare, sicuramente lo troverete. Lo potrete prenotare dal vostro libraio di fiducia. Mi raccomando, sosteniamo le nostre librerie. Perché dobbiamo farle crescere, eh? Meno acquistiamo online, meglio è. Però fate come voi gradite, ci mancherebbe altro. Ci vediamo alla prossima recensione.